Per vizi procedurali il Tardilecce ha colto il ricorso presentato dagli avvocati degli inquilini dello stabile di via Mezzetti 15 a Taranto sul cui terrazzo la Telecom ha montato lo scorso anno due antenne telefoniche. L'istanza non era adeguatamente pubblicizzata così come prevede la legge in questi casi. La domanda con cui Telecom ha chiesto di essere autorizzata all'installazione dell'impianto andava per legge pubblicizzata al fine di garantire la massima partecipazione della cittadinanza di riferimento. Dall'altro punto di vista i cittadini devono essere vigili, devono a questo punto esercitare le prerogative che il legislatore assegna loro e quindi devono essere attenti e sensibili nel partecipare. La battaglia nel momento in cui è vinta se si limitasse soltanto a queste affermazioni di principio sarebbe una vittoria sterile, invece la vittoria deve avere un senso concreto ma a questo punto la palla ritorna ai cittadini, sono i cittadini che devono esercitare i loro diritti oggi. I cittadini hanno dovuto anche autotassarsi per pagare le spese procedurali del ricorso. Il problema delle onde elettromagnetiche emesse dai ripetitori telefonici è molto avvertito dai cittadini per gli effetti che possono causare sulla salute. In questo caso l'azienda non avrebbe tenuto conto neanche della presenza di 5 plessi scolastici nei dintorni.